Saludato Gesù Cristo e avanti con Maria carissimi amici di radio e tv domina. Bentrovati a tutti voi questa sera che è la vigilia della grande solennità del Natale perché domani sera celebreremo la veglia e celebreremo il mistero della nascita in mezzo a noi del Redentore del mondo e allora vogliamo prepararci proprio nella preghiera. Raccomando a tutti di sostare nel proprio cuore nel silenzio della preghiera perché tutti i mistici dicono che Betlemme era caratterizzata da un profondo clima di silenzio e di preghiera dove Gesù è nato. Vorrei proprio che noi tutti ci lasciassimo condurre dallo spirito del silenzio per entrare nel mistero di un Dio che per amore nostro viene a salvarci dai peccati, viene a soffrire da subito perché non c'era posto per lui questo grande mistero di un Dio che viene nel mondo da lui creato ma per lui non c'è posto. Ecco allora noi questa sera affrontiamo credo sia la settima catechiesi dei racconti dell'infanzia, l'ottava dei racconti dell'infanzia e siamo arrivati alla sezione narrativa, siamo con Luca, abbiamo fatto l'annunciazione di Giovanni Battista, vi ricordate? Abbiamo poi fatto l'annunciazione a Maria, credo sia stata l'ultima catechiesi se non ricordo male, credo di sì e adesso finalmente abbiamo l'altra sezione narrativa dei dieci episodi dei Vangeli dell'infanzia che è appunto come sapete la visitazione come è stato annunciato. Seguiremo sempre lo stesso metodo e cioè prima di tutto leggiamo il brano che è assolutamente meraviglioso, un componimento direi poetico dove c'è in magnificat questa preghiera preziosa che secondo alcuni studiosi come vedremo è un inno precedente a Maria che Luca ha riadattato secondo alcuni, vedremo come stanno esattamente le cose ma soprattutto emerge questo incontro tra Maria la madre di Gesù ed Elisabetta di cui aveva parlato se vi ricordate l'arcangelo Gabriele a Maria, vedi? Anche Elisabetta tua parente. Allora andiamo a leggere questo brano che non si svolge né a Nazareth dove Maria in quel piccolo villaggio della Galilea riceve l'annunzio né si svolge a Gerusalemme ma si svolge questo episodio verosimilmente in quel posto che ancora oggi viene visitato dai pellegrini, io sono stato cinque volte lì, a Enkarem si chiama, questo villaggio posto a circa 8-9 km da Gerusalemme dove secondo la tradizione si trova proprio la casa di Zaccaria ed Elisabetta dove è nato Giovanni Battista e anche dove si è recata Maria. Noi leggeremo il brano, poi faremo un commento esegetico biblico, la riflessione spirituale e vedrete l'apporto straordinario dei mistici a riguardo di questo brano qui, di questa sezione narrativa, dopo finalmente nel pieno clima natalizio durante i giorni di Natale potremo meditare sui racconti della nascita di Gesù finalmente perché sia Matteo che Luca ne parlano, anzi Matteo arricchisce, Luca vi aggiunge il tema dei pastori come sapete, Matteo arricchisce tutto il brano con l'inserzione dei Re Maggi, ecco la stella cometa e i Re Maggi, ecco quindi proprio per gustare i giorni di Natale, tra l'altro io li vivo sempre come molti di voi sapete con grande intensità perché io sono come sempre ho detto un regalo di Gesù bambino, perché? Perché sono stato ordinato sacerdote il 27 dicembre, praticamente fra quattro giorni, giusto 23? No, sì, quattro giorni, fra quattro giorni nella festa di San Giovanni Battista io farò 19 anni di sacerdozio, di messa, ecco, allora adesso andiamo a leggere il brano, a gustarlo perché l'episodio della visitazione è così bello che già leggerlo permette di gustarlo in profondità, leggiamo il brano, siamo nel capitolo 1 di Luca, versetti 39 e 56, quindi anche qui un'ampia sezione narrativa, direi che Luca, anticipiamolo subito prima di leggere, ha voluto dare particolare risalto al ciclo non solo dell'infanzia di Gesù ma anche, come stiamo dicendo, dell'infanzia del Battista, dedica parecchi versetti a Giovanni Battista, compresa la visitazione, leggiamo finalmente il brano. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Ecco, questo è il brano, la sezione narrativa della visitazione che incastone in sé lo splendido inno del Magnificat che questa sera noi prendiamo in esame. Come detto abbiamo fatto la lettura del brano, adesso andiamo all'indagine, come si dice, esegetica dei versetti per poi cominciare a vedere che cosa, questo è il metodo che stiamo seguendo, che cosa il Signore ci vuole dire attraverso questo brano. Ecco, anche perché domani sera siamo già ai piedi della grotta di bettelemme spiritualmente uniti lì per adorare, adorare il verbo di Dio fatto carne. Quel bambino lì è niente affatto un bambino che da grande diventerà un grande profeta, che assumerà su di sé le categorie messianiche, niente affatto questo. Noi non siamo neo-ariani come lo è la falsa chiesa, quel bambino merita che noi pieghiamo le nostre stanche ginocchia perché quel bambino è il verbo di Dio, la seconda persona divina che si fa carne per venirci a salvare, anche se per lui, come sappiamo, non c'è posto. Andiamo subito al brano adesso. Luca introduce il racconto com'è nel suo stile dicendo in quei giorni, quali giorni, come potete capire subito, è un aggancio narrativo. Seguirò fondamentalmente il Brown in questa mia analisi esegetica, che è uno dei più, è poi qualcosa di Lorentè. In quei giorni è un aggancio narrativo rispetto a ciò che ci sta prima. Cosa ci sta prima? Sono i giorni del compimento delle scritture, perché c'è stato l'annuncio a Zaccaria ed Elisabetta è già al sesto mese e poi c'è stato l'annuncio a Maria e Maria da pochi giorni che ha ricevuto l'annuncio. Quindi in quei giorni in cui Dio ha visitato la Madonna perché fosse la madre del Messia, ecco che accade quello che stiamo ascoltando, Maria. Qui è uno di quei pochi brani biblici e neotestamentari dove protagonista, direi d'assoluto, è la Madonna. Fra un po' ci domanderemo sul piano teologico e spirituale, ma perché la Madonna è andata di corsa da Elisabetta? Perché i padri della Chiesa su questo, lo anticipo, si sono scervellati, forse voleva verificare come si dice come Sant'Omaso, voleva toccare con mano per vedere se era vero che sua parente Elisabetta era incinta? Oppure è andata lì per servirla? Queste sono le due fondamentali opzioni che i padri della Chiesa sviluppano. Perché Maria va da Elisabetta? Una prima tradizione dice per andare a verificare quello che l'angelo Gabriele le dice, vi ricordate? Anche Elisabetta, tua parente, nel sesto mese ha concepito e questo sesto mese appunto e tutti dicevano sterire, nulla è possibile a Dio. Altri dicono no, Maria è andata ad Encarem da Elisabetta di corsa perché sa che Elisabetta non è giovane di età e allora compie un gesto di carità, capite? Quale delle due opzioni è vera fondamentalmente? Allora si è imposta di gran lunga la seconda, cioè Maria va lì per servire Elisabetta, per aiutarla, per assisterla, tant'è che rimane con lei tre mesi, se era il sesto mese rimane tre mesi vuol dire che aspetta che Elisabetta partorisca Giovanni Battista per poi tornarsene a casa. E tuttavia c'è un'altra ragione più profonda che in passato è stata particolarmente investigata e che fra un momento vi dirò, o se me lo scordo me lo ricordate. L'evangelista Luca quindi pone in posizione narrativa centrale la figura di Maria, immaginiamola questa fanciulla giovane, bella, che adesso è incinta per opera dello Spirito Santo, l'immacolata. A proposito di questo, cari amici di Radio Domina e TV Domina, vorrei dirvi che ormai a causa della falsa chiesa di Bergoglio la confusione regna sovrana. Io ho ricevuto non poche osservazioni da parte di non pochi che si dicono teologi a riguardo della dichiarazione che ha fatto due giorni fa Bergoglio, cioè che Giuseppe e Maria come tutti non sono nati santi ma lo sono diventati. Ecco, e questa è una negazione del dogma. E allora ci sono quelli poveracci che a tutti i costi per difenderlo dicono ma Sant'Agostino diceva, ed è vero, è sul conto di Maria del parto virginale, a parte il fatto che il parto virginale di Maria è un'altra cosa rispetto al dogma dell'immacolata. Ma comunque è anche vero che Sant'Omaso d'Aquino era niente affatto d'accordo per la proclamazione del dogma, ma attenzione è un dogma, proclamato in maniera, capite i bergoiani chi sono? È un dogma proclamato dalla Chiesa, dal Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con carattere di infallibilità, se non ci stanno se ne vadano, di fatto sono andati via, sono loro una setta, perché pur di non dire che Bergoglio bestemmia avocano, mi capite? E poi capite perché mi arrabbio, perché è evidente che sono nell'errore, di fronte al Papa che proclama il dogma anche Sant'Omaso d'Aquino si inchina. Un conto è la discussione, il dibattito teologico che ci sta, mi state seguendo? Un'altra cosa è quando il Papa ex catedra fa il pronunciamento, allora si dice Roma locuta, causa soluta, perciò stiano zitti questi poveri disgraziati, stiano zitti, si sono creati una setta dove vige il minimalismo mariano, Maria una di noi, capite? Capite? È vero che Sant'Omaso d'Aquino non era d'accordo sul dogma dell'Immacolata, ma Pio IX l'ha proclamato ed è il Papa, ex catedra, sapete che significa ex catedra? Cioè con la consapevolezza di essere infallibile, mica stiamo scherzando con le cose cattoliche, ma siccome questi della falsa chiesa bergogliana sono niente affatto, Bergoglio ha raccolto le simpatie di tutti quegli pseudo cattolici che vanno ammessa con i protestanti, che amano l'ecumenismo, che amano quelle cose lì e si trovano perfettamente in sintonia, capite? Ecco, allora Maria va da Elisabetta, io non vi ho ancora detto il vero motivo, vi ho detto quali sono quelli due classici, quali sono ve li ricordate? C'è uno per andare a verificare, ma la Madonna era una donna di fede e l'altro invece era per andarla a servire, questo è vero, ma non è il primo motivo, rimarrete colpiti dal vero motivo, ma andiamo con ordine, Maria si alzò, attenzione ai verbi, andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, questi quattro verbi vorrei che insieme esaminassimo, attenzione bene, perché sono verbi, come spesso si dice, teologici, niente affatto gettati lì per caso, il Vangelo è veramente, perché è Spiritu Santo dictante, dice il Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, cioè gli autori sacri, poi Luca ha ascoltato, scrivono per ispirazione allo Spiritu Santo, poi Luca ha ascoltato dalla viva voce della Madonna, ci pensate questo, vedete che a Bologna i bolognesi hanno molto a cuore il santuario, quando viaggio in macchina in giro per i cenacoli rimasti cattolici passo spesso da lì, dall'autostrada a uno, quando passo a Bologna vedo sempre svettare sulla città questa basilica dove si conserva, secondo la tradizione, un quadro dipinto da San Luca, perché lui ascoltava la Madonna nel racconto della infanzia di Gesù e poi siccome era anche un po' pittore ha rappresentato, secondo la tradizione, la Madonna. Ma allora Luca usa dei verbi di questo tipo perché vuole lanciare messaggi importanti, iniziamo col primo, si alzò, fra i quattro verbi è il più singolare, che significa si alzò? Aveva la febbre? Stava male? Oppure siccome che appunto aveva concepito, aveva essendo la prima gravidanza una sorta di malessere fisico, che significa si alzò? Attenti bene, dobbiamo cogliere fino in fondo. Il verbo greco è quello della risurrezione, anistemi. Il termine greco è un participio molto bello che è questo, anastasa, cioè risorgendo su se stesse. Che vuol dire questo? Perché Luca ci sta usando questo primo verbo? Vuol dire che ha qualcosa di importante a punto di vista teologico, non dinamico, si alzò. Ma non è quello il termine. Si alzò intende dire, Luca, che una volta che Dio le chiede di partecipare all'opera della salvezza, Maria si è messa totalmente a disposizione. E questo già potremmo fare il primo motivo di riflessione per tutti noi. Quanti indietreggiamenti, no? Quanti sottili tradimenti dopo il Fiat che pronunciamo, quanti giovani preti seminaristi che vedi così fervorosi passi dopo qualche anno che stanno in parrocchia, ma neanche tanto, neanche proprio qualche anno, e li trovi spenti. Quante suore che non trasmettono l'amore per lo sposo divino. Quanti consacrati in jeans e capelli lunghi, che sembrano piuttosto seguire le teologie della liberazione che non il profumo del Vangelo. Maria è anastasa, è una risorta, è una che sta nel Signore. Ecco, vorrei questo. Nelle lettere agli ebrei si dice che Mosè camminò come se vedessero invisibile. Maria sta con il Signore, quindi si alza nel senso che si rende del tutto, non so se sono riuscito a spiegarlo, si rende del tutto disponibile all'agire di Dio. È una disponibilità radicale. Io nella mia vita societale ho seguito non poche anime. Quando il Signore lascia intendere di volere da queste anime qualcosa, allora davanti tutte le mani, come Zaccaria. Quanti giovani il Signore li chiama e... quante giovani il Signore chiama e... capite? Questo è... ma quando il Signore chiama bisogna dirgli subito di sì. E rimanere, permanere in quel sì. Quindi si alzò significa che Maria è un fiat in movimento, no? Un fiat in azione. Si alzò e andò in fretta. Andò in fretta. Perché in fretta? Il testo greco dice esattamente in tutta fretta. Quindi la Madonna, Maria, che è giovane, quindi questo l'aiuta. Avrà avuto 13-14 anni, immaginate voi. Oh, approssimo, è andato sola. Il Vangelo non lo precisa. Ai Mistici ci dicono che Giuseppe invece l'accompagna, come ora vedremo. E nel tragitto, scusate se io cedo a queste cose, però arrivano anche delle luci particolari. Nel tragitto Giuseppe lascia che Maria stia in groppa all'asino e parlano. parlano tra di loro. E quando la Madonna vede che Giuseppe l'ascolta, magari la Madonna ogni tanto, la Maria le dice, Giuseppe, sarai stanco. E Giuseppe si volge e dice, oh Maria, io con te arriverei fino in Egitto. Poi questo è accaduto veramente. Perché quando te mi parli, il mio cuore si infiamma. Nella vita di San Giuseppe, scritta da Suor Maria Cecilia Bayi, e si legge una cosa che mi ha commosso molto. Giuseppe arriva ad Encarem, perché è lo sposo di Maria, la deve custodire, no? Anche se sa che è di fronte più che al Santa Santorum. Quindi Giuseppe è un po' come il sommo sacerdote. Si accosta a Maria nel parlarle, come il sommo sacerdote quando entrava nel Santa Santorum, che vi entrava una volta all'anno, perché sapeva che lì c'era l'arca dell'alleanza. Giuseppe sa che Maria porta in greba e solo perché casto, come lo chiama Gesù in Maria Valtorta, il mio padre virginale, può stare accanto a Maria. E il suo cuore si infiamma. Giuseppe chiede a Maria di raccontarle la storia della salvezza e la Madonna lo accontenta. E quando poi Giuseppe la lascia ad Encarem, perché rimane lì tre mesi, Giuseppe se ne torna a Nazareth per poi andarla a prendere, no? Dopo che Elisabetta partorirà Giovanni Battista. E poi vi dirò che bella questa storia del parto di Giovanni Battista e Maria Valtorta. È assolutamente commovente, per un momento ci arriviamo. Il ruolo preminente di Maria, preminente di Maria, veramente. E allora Giuseppe se ne torna e piange, perché sta ripercorrendo la strada ritroso verso Nazareth e già ha la nostalgia di quella giovane fanciulla cui si sente però legato non da quel legame carnale tipico della coppia, che dovrebbe invece però anche la coppia ordinaria scoprire il legame prima di tutto spirituale. Giuseppe piange, San Giuseppe tornando a casa dice già mi manca Maria. E poi rientra a Nazareth, siccome lui che ancora stavano separati, come sapete, no? Prima dell'annunciazione. Allora Giuseppe va in casa di Maria, chiede ad Anna, a Madre Sant'Anna, la mamma della Madonna, di poter sostare nella stanzetta di Maria perché gli pare di sentire, insomma, per dirla chiaramente, San Giuseppe è stato il primo consacrato di Maria. Non so se portava la catena del Monforte e leggeva il trattato della vera devozione, ma Giuseppe è stato il primo devoto di Maria e le mancava. Lui aveva il bisogno di stare poi quando è nato Gesù. Immaginate San Giuseppe, doveva dividere il suo tempo tra Gesù e Maria. Capite? Ecco, io penso che noi preti dovremmo un po' imitare San Giuseppe, essere pieni di Gesù e di Maria, pieni di Gesù e di Maria, non delle ideologie del mondo. Ecco. Allora, Elisabetta va in tutta fretta. Che cosa significa in tutta fretta? E si sono avanzate, dice Brown, ragioni di ordine... scusate, io passo dall'aspetto esegetico, dall'aspetto mistico, ma poi voi dopo fate la sintesi. E si sono avanzate ragioni di ordine psicologico. Per esempio, Maria ha fretta di andare così che, siccome è incinta, non vuole che lì per lì si accorgano subito che è ingravidata. Ma questa ragione è da scartare, perché Maria era del tutto come dobbiamo esserlo noi, abbandonata in Dio. Non si sottolineerà mai abbastanza il coraggio della fede di Maria, perché Maria sapeva che rischiava, anzi era certa della lapidazione, ma si è fidata di Dio. Ma non è questo il motivo per cui Elisabetta corre in modo così rapido verso Incarem. Corre per un'altra ragione, che è quella che vi avevo anticipato e che ancora non vi ho detta. E no, ancora non ve la dico. Dobbiamo arrivare al dunque. Andiamo avanti. Va verso questa regione montuosa, dicevo Incarem, si chiama così questa cittadina dove è nato Giovanni Battista, dove vanno ancora oggi i pellegrini. Entrata nella casa di Zaccaria. Immaginate la scena dove protagoniste per la prima volta nella storia biblica, in maniera clamorosa, diventano le donne. Ma non le donne in senso mistico, le donne in carne e ossa, quelle che possono, noi maschi non arriveremo mai a capirlo fino in fondo questo mistero, possono portare in grembo la vita. E tutte e due, Maria ed Elisabetta, sono narratrici della gloria di Dio, della cabò di Yahweh, come la chiamano gli ebrei, ma proprio perché portano in grembo l'una il precursore, Giovanni Battista, l'altra il Messia. Si incontrano. E dice l'Evangelista Luca, saluto Elisabetta. Appena Elisabetta ode il saluto di Maria, dice l'Evangelista Luca, attenti bene, il bambino sussultò nel suo grembo. Il termine tecnico medico adoperato è skirtan, è un termine tecnico per indicare il movimento all'interno dell'utero, quando nella donna il bambino si muove. Ma, venendo così a confermare la teoria che Luca era un medico, perché usa proprio il termine tecnico del bimbo che si muove nel grembo materno. Ma è importante chiedersi perché il bambino si muove. E allora vai a scoprire che il verbo greco adoperato da Luca per indicare che il Battista, che ha sei mesi, si sta muovendo nel grembo letteralmente è saltare, o se volete saltellare. Capito? Che meraviglia, figlioli cari. Questo è il cristianesimo. È una poesia continua, è un incanto che non ci sono mai parole. Noi dovremmo tornare e ritornare di continuo sulla bellezza di questi brani. Appena Maria, così giovane, mi immagino esile, così graziosa, così come nessun'altra donna lo sarà mai, bella, profonda, tutta di Dio. Dopo esser stata per quel viaggio a parlare con Giuseppe delle cose di Dio, immersa nella preghiera, perché Maria era preghiera in persona, e porta in grembo l'eseratore, entra con quei suoi piedini, quei sandali di cuoio, quella veste bianca, il manto azzurro come tradizionalmente viene rappresentata, entra per salutare Elisabetta, la saluta Shalom Elisabetta, Shalom a te, Shalom a voi, pace a questa casa. Giovanni Battista comincia, ma figlio di cari, questo è, comincia a saltellare Giovanni Battista, le saltella dentro, e questo è il verbo greco che adopera Luca. Giovanni Battista saltella nel suo grembo, come fanno le pecore in un campo, quindi non solo saltella, ma saltella da una parte all'altra, perché ascolta Maria, è arrivata la voce di Maria, è Maria che porta Gesù figlioli cari, state attenti a questa deriva neo-ariana della diabolica falsa chiesa che minimizza il ruolo e la figura di Maria, è Maria che ci ha dato Gesù, non scherziamo, è Maria che porta Gesù, anche al Battista ha portato Gesù, come ora vedremo, è Maria che porta Gesù. E appena Elisabetta sente questo saluto, Shalom, che era il saluto tra le persone di fede ebraiche, e il bambino saltella, immaginate questa scena, ha sei mesi, saltella, e come dice il testo greco, come le pecore in un campo. Elisabetta sente questo movimento del bambino, ma capisce che non è un movimento qualunque, non è il movimento del bambino che si sta, come molte volte io, siccome in passato approfondivo anche queste tematiche, ah guardate, io ho conservato un quaderno in cui ho fatto la raccolta delle mie meditazioni sul Magnificat quando avevo 19 anni, avevo organizzato un pellegrinaggio, ero seminarista da appena un anno, avevo fatto un pellegrinaggio guidato da me, mi commuovo certamente, mi commuovo a Lourdes, a Fatima, e avevo accompagnato i pellegrini con una meditazione sul Magnificat, perché non è da ora quindi che io me li gusto, e qualcuno si chiede, ma questo come fa a non cedere? Ma come faccia a non cedere? Saltello come il Battista, perché odo sempre la voce della Madonna, quando noi ascoltiamo la Madonna che viene a dirci Padre Alessandro, Shalom a te, io saltello come Giovanni Battista, noi saltelliamo, e questa è la differenza col cristianesimo nostra, il cristianesimo post conciliare è stanco, è arrugginito, perché ha messo da parte, capite, con il sospetto luterano di un ingombro mariano, la presenza di Maria, è lei che porta Gesù, ma ancora adesso è venuto il bello, e Isabetta sente questo bambino che saltella, e dice Luca a questo punto una cosa molto importante, fu colmata di spirito e dice, oh ragazzi, dico ragazzi a voi che siete lì su Radio Dobini e TV, perché qui sono tutti giovani, faccio la catechesi giovanile come qualcun altro in passato, sono tutti giovani qui stasera, è una cosa molto bella, e quindi penso che lo gustano di più, perché i giovani queste cose le gustano probabilmente di più. Oh ragazzi, attenti a quello che stiamo per dire, adesso entra in scena un protagonista apparentemente secondario, che invece forse vale più di tutti, se dovessimo fare la bifisezione delle sezioni narrative dei brani dell'infanzia di Gesù, notate chi è uno che ritorna in un modo, in un altro c'è sempre, lo spirito santo. Avete notato questo? Andatevi ad ascoltare le catechesi con questo criterio, no? E vi accorgerete che dovunque ritorna il tema della terza persona divina, e ritorna in modo serio, su di te scenderà lo spirito santo, dice Gabriele a Luca, no? Per esempio, il batteo, non temere, dice a Giuseppe l'angelo, in sogno di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che nasce da lei viene dallo spirito santo. Ora, quando poi c'è l'annunciazione a Zaccaria, l'angelo Gabriele dice, sarà ripieno di spirito santo, parlando del battista, fin dal grembo di sua madre, vero? Adesso per la quarta sezione narrativa lucana, ancora una volta c'è il tema dello spirito santo. Questa volta sono delle vere e proprie discese, sono delle prepentecoste, pentecosti, capite? Sono assaggi di pentecoste, perché dove c'è Maria, figlioli cari, Maria porta Gesù e Maria dona lo spirito santo come nel cenacolo di Gerusalemme. Ecco perché Luca poi negli atti degli apostoli tiene a sottolineare che c'è lo spirito santo perché c'è Maria. Elisabetta è ricolma di spirito santo ed esclamò a gran voce. Oh, attenti che Luca intende sottolineare questa cosa molto bella, esclamò, e il termine greco è letteralmente, con un gran grido, urla, perché quello gli salta dentro. È una, potremmo dire prepentecosa, lo spirito santo sta avvolgendo questa scena, direi quasi per immortalarla per sempre. Ci sono le due protagoniste, dirà Sant'Ambrogio, visibili che sono Maria ed Elisabetta e ci sono i due veri protagonisti invisibili che sono Gesù e Giovanni. Ed Elisabetta pronuncia gridando. Perché grida? Attenzione, vi ricordate che anche Gesù grida sulla croce, per esempio, no? Oppure quando dice chi ha sete venga a me beva, dice l'evangelista Giovanni, disse a gran voce, gridò proprio. Ci sono brani dove si dice che si urla. E questo è un caso in cui si urla, ma Elisabetta sta urlando, esclama con un grande grido, è un grido di esultanza, capite? È lo spirito santo che la invade, è proprio una, potremmo dire, epifania visibile dello spirito che la possiede. E che cosa dice Elisabetta? E cosa scottiamo? Benedetta! Dovremmo urlare, ma poi se lo dico che urlo sempre. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. E poi aggiunge, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Adesso scoprirete un paio di cose che vi lasceranno colpiti se non le sapete. Guardate che bello, amici cari. Primo, a che cosa devo che venga a me? È la frase che aveva pronunciata nell'Antico Testamento il re Davide, quando, siccome che l'arca dell'Alleanza che teneva le tavole della legge si trovava altrove, mi pare da Obededo, ma adesso non mi ricordo bene, allora Davide, che già un torre vuole che l'arca dell'Alleanza sia portata a casa sua, a Gerusalemme. E lui fa di tutto per averla, ma appena la vede arrivare, l'arca che porta la presenza di Dio, capite? Capite che straordinario parallelo teologico c'è? Lo avevamo già visto l'altra volta. Torna il tema di Maria, nuova arca dell'Alleanza. E come l'arca dell'Antica Alleanza non si è più saputo che fine abbia fatto perché è scomparsa, e perché è una tradizione vuole che sia stata portata nell'altare del Tempio del Cielo, così Maria, nuova arca dell'Alleanza, è stata assunta in cielo. Capite? E Elisabetta, e allora Davide, quando vede arrivare l'arca a casa sua, lo prende una forma di, come potremmo definirlo, di stupore, di paura, di, non so come definirlo, di panico, non so, ecco, tanti sentimenti gli saranno. E qual è la sua reazione appena l'arca dell'Alleanza, sapete che veniva portata con le stanghe, ma non poteva essere toccata, chi la toccava veniva fulminato come era successo, quindi Davide un po' giustamente si scanta, si scanta significa e si spaventa. Allora portano quest'arca dell'Alleanza appena Davide, e Davide cosa fa? Sta danzando attorno all'arca. Davide, questo giovane re, sta danzando attorno all'arca. Allora vedete che Luca ascolta da Maria e codifica secondo il bagaglio liturgico, teologico, diciamo, dell'esperienza del popolo di Israele. Perché? Perché c'è la danza di chi? Non di Davide, ma di chi? Di Giovanni Battista che danza nel grebo. E c'è l'arca dell'Alleanza che è Maria. E perciò Davide dice, quando l'arca arriva, un momento, a che devo che l'arca del mio Signore giunga fino a casa mia? È così che leggete nell'Antico Testamento. E sono precisamente le parole che pronuncia Elisabetta. Vedete che c'è un rituale dell'introduzione dell'arca dell'Alleanza nella casa di Davide. Qui abbiamo il rituale riproposto, ma attualizzato in maniera definitiva, con Maria, che è la nuova arca dell'Alleanza perché porta in grembo il figlio di Dio, la presenza di Dio, con Giovanni Battista che danza nel grebo della madre, l'irruzione dello spirito, la shekinah, la kabod Yahweh, la gloria di Dio, non so se sto riuscendo. E infine Elisabetta che pronuncia con stupore questa affermazione che aveva già fatta Davide nell'Antico Testamento è che devo, com'è possibile che la madre del mio Signore venga a me? E attenzione, la prima volta che compare il termine curios, il Signore, è l'appellativo pasquale, Gesù Cristo è il Signore, è l'affermazione che verrà fatta Pasqua e quindi è un racconto che anticipa la Pasqua perché c'è lo Spirito Santo e c'è la gioia, capite? E guardate che bello, la madre del mio Signore. Ora, non so se lo sapete, ma nella tradizione ebraica la mamma del re, per esempio Bezabea, la madre di Salomone, aveva un ruolo predominante, era il tema della cosiddetta Gebirà, cioè la regina madre. La regina madre aveva un ruolo preziosissimo nei confronti del figlio re e lo vedremo poi con il racconto anche dei re maggi perché inspiegabilmente di per sé, ma può darsi che non l'avevano letto i bergoiani questo testo, perché Matteo, che Bergogliano evidentemente non è, dice che i re maggi cercano Gesù, ma in realtà quando arrivano, dice Matteo, trovarono Maria, cioè Matteo e Luca, sto ribadendo, lasciano intendere che per trovare Gesù bisogna passare attraverso Maria, non si trova Gesù se non si passa attraverso Maria, capite? Tranne che non si riesce di essere neoariani, allora Maria diventa una donna qualunque, una donna comune. Ecco, fu colpa di pieno Spirito Santo a che devo che la madre del mio Signore venga a me. E adesso Elisabetta precisa, appena il tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Ritorna il tema del saltellare. Ecco, Don Dolindo Ruotolo nel suo commento a questo brano assolutamente poetico, lui era napoletano, partenopeo, quindi si è lasciato andare, dice delle cose splendide. Maria si pose in viaggio frettolosamente, cercava la solitudine perché aveva un gran bisogno di amare in silenzio, perché chi ama veramente non ha bisogno di tante parole, e correva perché era quasi come spirito, non avvertiva il peso del corpo, era una farfalla la Madonna, una libellula. Maria tutta volta dalla fiamma dell'eterno amore, dice Don Dolindo, non poggiava quasi sul suolo, e come colomba, librata al volo, insomma doveva pensare in effetti anche abbastanza poco, correva senza affannarsi, spinta come da un vento, il vento dello spirito, già che la creazione le faceva quasi riverenza. E l'aria stessa, dice Don Dolindo, si apriva innanzi a lei per non opporre resistenza ai suoi passi. Don Dolì, se ci fosse in so bianchi ti direbbe che stai venerando la Dea Madre, capito? La Dea Madre, poveracci, che poveri disgraziati Don Dolindo questi qui. Va bene, e allora però Don Dolindo in effetti scorda di dire che c'è Giuseppe che l'accompagna, ne ho parlato poco fa, mi pare sì. Ecco, adesso però avevamo detto che Elisabetta qui dice che il bambino sussulta nel crembo. Zaccaria si era sentito dire dall'angelo una cosa importante, sarà, a proposito del Battista, sarà ricolmo di Spirito Santo fin dal crembo di sua madre. Che cosa questo esattamente significa? Perché nessuno può essere ricolmo di Spirito Santo fin dal crembo. Nessuno. Perché? Perché la teologia cattolica, non le opinioni della falsa Chiesa che circolano ad essere a manca, ma la teologia ufficiale insegna che noi veniamo tutti concepiti col peccato originale. Solo è soltanto una creatura. Dio ha voluto non venisse concepita in vista dei meriti di Gesù Cristo dal peccato originale. Ed è? Maria. Allora Giovanni Battista è stato concepito nel peccato originale? E però Gabriele aveva detto a Zaccaria che sarà ricolmo di Spirito Santo fin dal crembo materno. Allora come si spiega? Si spiega con la vera ragione per cui Maria ha avuto fretta di raggiungere Elisabetta. Non è stato per verificare, è stato certamente per darle una mano d'aiuto come ora vedremo perché concluderò in una maniera che vi colpirà tantissimo, ma il vero motivo per cui Maria va in casa di Elisabetta è perché tenendo in grembo il Messia deve pre-santificare Giovanni Battista. Giovanni Battista viene santificato nel grembo di sua madre attraverso la presenza della Madonna. Questo è il vero motivo per cui la Madonna va di fretta in casa di Elisabetta perché si adempia la parola che l'angelo aveva detta a Zaccaria. Sarà ricolmo di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Non lo è per sei mesi ma appena Maria entra in casa e dice shalom, shalom, la sola voce di Maria e Giovanni Battista saltella come una pecorella nel grembo della mamma Elisabetta perché su di lui scende lo Spirito Santo attraverso Maria. Giovanni Battista viene pre-santificato e liberato nel grembo materno dal peccato originale. Maria da Greda nel suo racconto mistico dice proprio questa cosa qui che poi viene sottolineata anche da Maria Valtorta e cioè guardate cosa dice il futuro precursore di Cristo nostro bene se ne stava nel suo grembo quando la madre santissima Maria arrivò alla casa di Zaccaria. La sua anima era ancora immersa nelle tenebre del peccato che aveva con... vedete che la teologia si muove come un castello ben architettato, crollando un piano crolla tutto. Cioè Giovanni Battista non può che sia stato concepito nel peccato originale, lo dice anche Maria da Greda. Ma Cristo Signore, dice, volle graziare il suo grande profeta e precursore con il grande beneficio di anticipargli la luce della grazia. Cioè già nel grembo il battista viene come battezzato, capite? Come battezzato e aggiunge Santa Elisabetta fu piena di Spirito Santo e tanto illuminata nel suo intimo che in un momento conobbe altissimi misteri. San Giovanni nel grembo materno fu la terza persona per cui Gesù pregò in particolare mentre era nel grembo di sua madre. Sua madre fu la prima per la quale egli ringraziò nel grembo supplicando e pregando Dio padre. Poi ci fu San Giuseppe che Gesù raccomandò al padre e infine appunto Giovanni il Battista. Conclude Maria da Greda, Giovanni fu perciò purificato dal peccato originale. Si adempiva così ciò che l'angelo San Gabriele aveva detto a Zaccaria, cioè che suo figlio sarebbe stato pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Ecco, e poi il testo continua dicendo che Elisabetta rivolge un'altra lode a Maria. La prima è stata benedetta tu fra le donne, quello che diciamo ogni volta nell'Ave Maria, è benedetto il frutto del tuo grembo. Ma al versetto 45 troviamo la vera ragione della beatitudine di Maria. È beata con lei che ha creduto. Episteusasa in greco. C'è prima anastasa, cioè si è alzata, vi ricordate avevamo detto perché risorge e vive dell'ecomi. Adesso è Episteusasa, è la donna di fede. Epistis in greco vuol dire fede. Episteusasa è la donna piena di fede. Te è beata Maria perché hai creduto. La tua beatitudine Maria sta nel fatto non che porti semplicemente in grembo il figlio di Dio, ma perché hai creduto. La fede di Maria. Maria si è fidata di Dio. Hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha detto. Ed è qui che allora Maria che era appena entrata dicendo shalom e che fino a questo momento era stata zitta e rompe in quell'inno che ogni sera cantiamo a Vespro, il Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore. E l'inno procede in una sorta di visione rivoluzionaria della storia umana nella quale Maria, da buona ebrea, facendo sintesi di tutta la storia della salvezza nell'Antico Testamento, celebra Dio che respinge i superbi, allontana gli orgogliosi e sceglie i piccoli e gli umili. Naturalmente noi siccome che devo concludere, devo andare verso la conclusione, non possiamo tratteggiare tutte le caratteristiche di questo splendido inno che è il Magnificat. Vorrei soffermarmi soltanto su qualche passaggio. anzitutto quando la Madonna dice ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora, io non so se io vi dicessi, sapete io sono umile, voi potreste subito dire è il primo indizio che non lo sei, uno che è umile non lo dice. Ma allora com'è che la Madonna dice ha guardato l'umiltà della sua serva. L'abbiamo tradotto con umiltà, ma la Madonna non si riferisce alla virtù morale dell'umiltà. Ma il termine greco usato da Luca è tapeinosis. Tapeinosis in greco vuol dire semplicemente tanto umiltà, quindi qualità morale. Vuol dire piccolezza, quindi qualità è esistenziale. Dio ha guardato a me che sono la più piccola. E infatti i padri della Chiesa pongono anche qui un parallelo. Guardate che bello. Qual è il popolo eletto di Dio? Come si chiama? Israele. Era forse il popolo più grande? Era come l'Egitto? Era come Babilonia? era come i sumeri? Era come i mesopotamici? Appunto Babilonesi? No! Dio nel libro dell'Euteronomio per bocca di Mosè dice io ti ho scelto non perché eri più grande fra tutti i popoli della terra, trattino, che anzi sei davvero il più piccolo fra tutti i popoli, trattino, ma ti ho scelto perché io ti amo. Maria ha capito. Capite? Che sei immacolata perché l'angelo, quella frase che l'angelo le avrà detto, le si sarà inciso a caratteri di fuoco di Pentecoste nell'anima immacolata. Che caritomene, cioè piena di grazia. Ma Maria ha capito che questo accade perché è piccola come gli ebrei, solo che mentre Israele, che era il più piccolo fra tutti i popoli della terra e che Dio ha eletto ricolmandolo di grazia, poi si è insuperbito, no? E ha tradito l'alleanza con Dio, Maria è rimasta fino in fondo fedele. Ha guardato la mia piccolezza, Dio. Te che cosa guarda il Signore? Me, noi. Che cosa il Signore vede in noi? Pensiamo forse che il Signore veda le nostre qualità morali. Ha guardato se Maria che è l'immacolata, la tutta santa, la tutta pura, dice ma Dio mi ha scelta Elisabetta, qui noi stiamo vivendo la Pentecoste, dice Elisabetta, a Elisabetta, ma Dio mi ha scelta, mi ha guardato perché ero piccola, non umile, piccola. C'è il tema degli anawim, dei poveri di Dio, Maria è la povera di Dio e i poveri non sono semplicemente quelli che mancano di cibo, perché tante volte vedi che tra i poveri c'è una miseria umana e spirituale che mette paura e si insiste molto perché ormai il cristianesimo con Bergoglio si sta trasformando di marxismo, diciamo revival marxista, queste benedette teologie della liberazione, ma i poveri veri sono quelli che non hanno Dio, quelli che non hanno il regno dello spirito. Allora Maria è portavoce dei poveri di Dio, cioè di coloro che non confidano in se stessi nella vita. Ma voi capite, capisco che siete stanchi, vi state addormentando, ma capite cosa significa quello che sto dicendo, lo capite? L'umanità si divide in due classi, non ci sono vie di mezzo, i prepotenti, gli arroganti, gli orgogliosi, i prevaricatori, i menzogneri, i disonesti, i corrotti e dall'altra parte i umili, i piccoli, i semplici, quelli che Gesù esalterà. Quando Gesù ha pronunciato le beatitudini al primo posto ha messo beati i poveri in spirito, perché di essi regno di Cielo, a chi pensava se non al magnificat della mamma? E poi Maria dice quella espressione lì assolutamente sorprendente, d'ora in poi, che dal greco si può tradurre così, a partire da questo momento tutte le generazioni mi chiameranno beata. Fiori cari, mi ricordo che un mio professore di Esegesi diceva, e poi me lo ripeteva anche un mio confessore, che il Vangelo è vero perché c'è questa profezia di Maria. Pensatelo, Luca scrive il Vangelo nel 70 d.C. A partire da quell'epoca, fino all'avvento di Bergoglio, la Madonna è sempre stata da cattolici magnificata, persino i musulmani la venerano, i musulmani venerano Maria, madre del profeta. D'ora in poi, a partire da questo momento, dice il Monforte, e non c'è strada, contrada, via, percorso, casa, luogo che in un modo e in un altro. Se uno volesse pensare, tra le miliardi di donne che sono vissate sulla Terra, chi è la più famosa? Merini Morro? Merini Morro è la più famosa, capito? Chi è la più venerata? La più proclamata? La più nominata? Questa piccola fanciulla, quattordicenne, di uno scuro villaggio della Galilea, che Dio ha sequestrato, che Dio ha fatto sua, vi ricordate quando abbiamo visto l'annunciazione epischiazomai, che vuol dire prendere possesso, Dio ne ha preso possesso, Maria allora dice sono piccola, ma tutte le generazioni mi celebreranno, non è forse vero, il cattolicesimo che cosa ha ragione? Vittorio Messori. Vittorio Messori dice se uno va nei paesi di matrice protestante e si accorge che lì la fede agonizza, perché Lutero ha voluto togliere di me, come stanno facendo adesso Bergoglio e in compagni, il ruolo di Maria, capito? Tutte le generazioni mi chiameranno Beata. E poi, e concludo, si legge, lasciamo stare gli altri dettagli se no non la finiamo più, Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Che significa che rimane tre mesi con lei? Beh, con ogni evidenza Fioli Cari attende il parto di Elisabetta. Ecco, mi pare che io abbia detto già tutto, manca l'ultimo dettaglio. Qual è l'ultimo dettaglio? Beh, il Magnificat ve lo dicevo secondo alcuni studiosi sarebbe, ma non vi addentro a queste cose, perché sarebbe un inno precostituito che poi Luca rielabora, ma in realtà come stanno veramente le cose? Beh, se volete che vi dica come la penso io, mi faccio piccolo anch'io, dico la cosa più semplice che si possa dire, cioè Luca ha, come ormai attestato dalla tradizione, ha ascoltato dalla viva voce di Maria i racconti che stiamo ascoltando, pertanto non escludo che noi, quando cantiamo il Magnificat la sera, stiamo cantando con le parole stesse di Maria, così come col Padre Nostro preghiamo con le parole stesse di Gesù. Il Padre Nostro è il Magnificat, capite? Il Padre Nostro è Gesù che prega, il Magnificat è Maria che prega, è la Chiesa che guarda Maria e dice ha guardato la povertà della sua serva. Elisabetta sta tre mesi con Elisabetta, scusate Maria, sta tre mesi con Elisabetta, sapete perché? Perché aspetta che Elisabetta partorisca. Ora Maria Valtorta, avevo preparato il testo ma così vi addormentereste, ve lo dico io in due minuti, questa è una conferma plateale, Maria rimane con Elisabetta tre mesi. Perché rimane tre mesi con Elisabetta? Abbiamo detto perché deve partorire. Ebbene, Maria Valtorta racconta una cosa che ho trovato mi pare anche in Caterina e in America, se non mi ricordo, che vi dico ed è questa. Elisabetta è avanti negli anni, rimane incinta perché Dio lo permette attraverso suo marito Zaccaria, perciò è ovvio che essendo grande di età il parto si presenta molto difficile. Il parto, proprio davanti la scena come la racconta Maria Valtorta è qualcosa di meraviglioso, il parto avviene di sera e mentre Elisabetta non riesce a partorire, Maria, quattordicenne, ha i sandali tolti, sta giù perché c'è la scala che porta nel piano superiore dove Elisabetta sta cercando di partorire ma veramente il parto è molto difficile e Maria invece è giù, in una stanzetta perché aveva chiesto a Elisabetta di avere l'essenziale, per cui gli avevano detto una stanzetta piccola piccola e Maria aveva un piccolo giaciglio, dormiva, la Madonna dormiva quasi niente e anche mentre si addormentava ogni tanto era perché veramente non si reggeva ma pregava sempre e mangiava come un uccellino. Allora Maria che sta pregando ai sandali tolti, come abbiamo visto l'altra volta, amava mettersi prostrata a terra. Se voi leggete Maria da Greda vi accorgete che la Madonna di continuo si prostrava a terra. Guardate, una cosa molto bella che dovreste sapere, quando Gesù diventa adulto alcuni segreti che poi avrebbe rivelati ha sentito il bisogno di anticiparli alla Madonna. In particolare due ve ne cito. Il Padre Nostro. Voi sapete che il Vangelo si dice che Gesù gli chiesero insegnaci a pregare e Gesù insegna il Padre Nostro e da quel momento lo pregano. Ma in realtà, dice Maria da Greda, questa sora del 1600 che andava in bilocazione in America a predicare il Vangelo agli indiani, tanto che gli indiani quando si è avuto i gesuiti hanno detto ma qui sappiamo tutto perché viene una sora a predicare. Era lei che dalla Spagna in bilocazione andava lì e allora vediamo se qualche volta non ci attrezziamo noi. Andiamo a predicare in bilocazione i nuovi indiani. E allora dice Maria da Greda che appena Gesù dice a Maria, madre sai, per dirla così in parole nostre, ho deciso di raccontarti questa storia del Padre Nostro e la Madonna che fa? Si getta a terra, a terra e adora a Dio. Poi un'altra volta Gesù la chiama poco prima di inserire la missione pubblica e dice sai madre devo dirti che inventerò l'Eucaristia. La Madonna cosa va? Ah che è a terra. Si buttava sempre a terra la Madonna. Si prostrava a terra. Noi ci buttiamo a terra ma in un altro senso. La Madonna si prostrava a terra. Allora io adesso ho 45 anni, peso più di 100 kg e quindi faccio molta fatica ad attirarmi, a gettarmi a terra. Ma raccomando a tutti di fare questa preghiera metanica, cioè di conversione, di adorare Dio, adorare Dio. Il corpo partecipa della preghiera. Comunque per concludere, Maria sta pregando perché sente le urla di Elisabetta che non riesce a partorire. Finalmente Elisabetta perché la Madonna sta pregando? Cioè i mistici tendono a sottolineare anche Don Dolindo. Qualcuno tra i presenti mi hanno chiesto dove io ho preso le notizie di Don Dolindo. Eccolo qui. Si intitola I quattro Vangeli sempre a cura di casa Mariana e Elitrice. Ad ogni modo. Finalmente Elisabetta partorisce. Ma siccome è stato un parto difficile, chi è Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto? Ma quello ha cominciato a gridare a casa sua. Sto bambino, sto puttino, perché poi dicono che era nato proprio bello bello, un puttino proprio dolcissimo. Comincia a strillare che non la finisce più. Esce dal grembo di Elisabetta e comincia a urlare, ma a urlare, a urlare e non la smette più. È appena nato. E allora la nutrice lo prende, lo avvolge, cerca di coccolarlo, di accorrezzarlo perché Elisabetta sta molto male. E niente, il bambino Giovanni Battista urla ancora di più. E allora Zaccaria, che ancora è muto, perché ancora è muto, prenderà la voce, come sapete, col battesimo, anche lui sente questo bambino che urla, cosa volete? Gli si strazia il cuore, per cui sale, perché anche lui era giù, va a prendere questo bambino, cerca in tutti i modi di, e non so cosa fa, che cosa si inventa, e questo bambino urla ancora di più. Allora Elisabetta, che nel frattempo ha cercato di riprendersi un po', dice datemi mio figlio, vediamo se riesco, se lo mette al seno, e il bambino strilla, 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 fin tanto che, fin tanto che, Maria interrompe la sua preghiera, senza neanche mettere i sandali, dice Maria Valtorta, sale quelle scale come se stesse danzando, per non disturbare Zaccaria, che nel frattempo dormiva, entra nella stanza, è come poche volte la Madonna fa, però quando lo fa stiano attenti tutti, dice datemi il bambino, come ha fatto Alcana, vi ricordate? Fate quello che Gesù vi dirà, e in altri momenti, prendono il bambino, talmente lei, che è giovanissima, si impone, questo bambino urla, 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 appena lo consegnano alla Madonna, il puttino, Giovannino, si zittisce immediatamente, si calma, e si addormenta tra le braccia della Madonna, mi sono chiesto che cosa significa questo, beh figlio di cane, non ve lo posso spiegare, potete solo sperimentarlo, che cosa significhi quando c'è una missione, quando c'è un'esistenza che deve compiere un carisma, pensate grandi santi come Giovanni Paolo II, c'è bisogno della mamma celeste, Giovanni Battista si è calmato tra le braccia della mamma, auguro a tutti voi carissimi amici di Radio Domina e TV Domina di vivere con intensità questa giornata di domani, domani sera alle 21 manderò in onda prima della messa di Don Enrico un messaggio di auguri natalizi a tutti gli amici di Radio Domina e TV Domina, e dopo domani, che è Natale del Signore, alle ore 11 del mattino celebrerò la messa in diretta, nel frattempo vi chiedo di pregare per me, perché cosa volete, questi della falsa chiesa dicono che mi hanno scomunicato due volte, io fra quattro giorni celebro 19 anni di messa e mai come ora sento di essere sacerdote fino in fondo, se Cartesio diceva Cogito ergo sume, io dico sacerdos ergo sume, e se mi fanno gli analisi del sangue, anziché uscire il sangue c'è il fumo dell'incenso, ecco, per cui a tutti voi auguro veramente già da adesso un Natale pieno del Signore e con l'aiuto della Madonna che lei ci aiuti a preparare bene il nostro cuore per celebrare con giovi il Natale del Signore, sia lodato Gesù Cristo avanti con Maria